Cari amici di di pomeriggio eccoci di nuovo tornati ad uno dei nostri ormai consueti collegamenti da Milano Simone Zappacosta di nuovo qui con noi a parlarci di cosa succede nella grande Milano. Ciao Simone, buon pomeriggio. Ciao Barbara, buon pomeriggio a tutti. Caro Simone, allora ormai è diventato proprio un appuntamento immancabile, quello del lunedì con i fatti, le suggestioni, le novità che ci vengono proprio eh dalla grande Milano e in particolare da te che vai a spulciare tutto ciò che accade. Diciamo che eh c'è sempre molto da dire perché a Milano effettivamente eh no non c'è giorno che non ci sia qualcosa di importante e interessante ma eh in particolare questa settimana passata perché si è chiusa proprio ieri la Milano Design Week duemilaventiquattro ha fatto parlare di sé in tutto il mondo diciamo e tu eri lì. Sì sì diciamo che Milano ogni settimana è dedicata a qualcosa ma questa è la settimana più importante dell'anno per la città perché la Design Week è appunto una settimana molto internazionale si crea un flusso di persone importante è la settimana che tutti aspettano nel bene né il male perché si crea il traffico eh che crea problemi a di sé. Chiaramente il risvolto della medaglia no? C'è anche il risvolto negativo ma diciamo che la la ecco la la Milano Design Week che poi un tempo io me la ricordavo si chiamava il salone del mobile cioè da tantissimi anni è un po' rivisitata adesso vediamo anche come insieme alla settimana della moda sono i due grandi eventi internazionali che richiamano eh persone da tutto il mondo in questa incredibile città. Sì sono gli appuntamenti principali del calendario di Milano e sì una volta era il salone del mobile era appunto specifico nella fiera era la fiera dell'architettura e del design ora invece con l'internazionalizzazione il nome è diventato Milano Design Week che crea più appeal e come ti dicevo una volta era specifico nella fiera per gli addetti ai lavori quindi ci si concentrava lì a vedere le nuove frontiere del design e dell'architettura invece col tempo ci si è spostati nel fuori salone quindi fuori dalla fiera e tutta la città ci sono degli eventi delle installazioni e anche i brand che non fanno appunto architettura o design esclusivamente ne approfittano per farsi pubblicità o per creare delle delle attrattive per tutte le persone i cittadini e non i turisti che possono soffrire anche di aperitivi gratuiti e andare in giro a vedere le novità in ogni campo. Sì tra l'altro ecco il fuori salone ha tantissimi veramente tantissimi eventi ma non solo ci sono le installazioni la scorsa settimana ci hai parlato no di questa installazione molto molto bella e interessante che c'è c'è stata proprio fino a ieri al all'esterno della stazione centrale di Milano e che era proprio la nascita di JR riproponeva proprio la la questa una suggestione cioè come era nata la 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 stazione centrale di Milano e quindi ed è andata proprio su tutti noi abbiamo avuto siamo stati tra i primi proprio ad averlo in video poi andata su tutti i tg eccetera quindi sei hai avuto un'ottima intuizione diciamo che ha fatto un po' d'apripista per tutte le installazioni poi che si sono viste durante la settimana per il fuori salone quella è stata un'apripista la prima installazione poi tutta la settimana la città ha visto crearsi di qua e di là un'installazione diversa sì alcune ce le hai proprio documentate vogliamo parlare dell'installazione che tra l'altro in qualche modo ci avevi già accennato sì avevo fatto un piccolo spoiler la settimana scorsa perché la stazione oltre ad avere l'installazione di JR ha avuto per tutta la settimana una rassegna diciamo di Montclair che vede un varie installazioni durante dentro tutta la stazione quindi sia al piano terra che poi su dove si va ai treni di opere di molti personaggi culturalmente importanti la rassegna è stata curata da Jefferson Huck per Montclair e Jefferson Huck è il creatore e il CEO di Dazed che è un media inglese che si occupa di musica di cinema di arte a 360 gradi e ha creato appunto questi stand dove ci sono delle frasi iconiche delle immagini dei frame di video importanti culturalmente e ne ha riempito tutta la stazione io ho fatto dei video cercando di catturare le immagini più importanti e tra l'altro ecco il titolo di questa mostra possiamo chiamarla anche così un'installazione mostra video fotografica è proprio un invitation to dream quindi un invito a sognare perché poi tutti questi grandi personaggi in comune hanno avuto proprio la così la 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 spinta a creare a credere a credere in un sogno e poi a realizzarlo ce l'hanno fatta sì sì è molto ispirazionale diciamo come cosa arriva alla stazione trovi queste cose giganti questi poi sono diversi perché sono video sono foto sono scritte quindi c'è sei a 360 gradi coinvolto in qualcosa di diverso è molto interessante molto interessante del resto insomma è chiaro che la creatività al comando proprio in questa settimana e non solo diciamo ci hai portato anche un'altra suggestione dal fuorisalone della milano design week un'altra suggestione che è di tutt'altro tipo parliamo proprio di una non so di un mi verrebbe da dire un'installazione però in realtà è un un'azione 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 sulle sugli alberi sulle piante sì appunto per far vedere come la design a milano design week il fuorisalone interviene proprio sulla città in questo caso interviene sul paesaggio perché in uno dei giardini che si trovano di fronte nella zona dell'università statale degli alberi si sono colorati improvvisamente questa è un'azione di un'azione di un'associazione che si chiama tridom che ha voluto appunto vestire degli alberi per dare un impatto molto visivo e molto immediato a chi passava lì per guardare un all'installazione chiamiamola così tra l'altro tridom è proprio impegnata in una campagna importante internazionale di salvaguardia dell'ambiente e di ripiantumazione insomma proprio a come come target come scopo diciamo obiettivo proprio comunicativo questo e tra l'altro si è affidata per quest'azione di quest'azione di sensibilizzazione a questa tecnica proprio di rivestimento delle piante con tessuti e l'ane così materiali tessuti all'uncinetto e quindi questi alberi sono proprio ricoperti di queste meravigliose no elaborazione all'uncinetto lavorazioni lavorazione all'uncinetto ho scoperto che si chiama yarn bombing questo questa tecnica e questo intervento ma lo sapevi caro simone che chi diciamo ha portato a fa queste realizza questo yarn bombing in questo modo qui è una un collettivo che è nato a ortona non lo sapevo ma c'è sempre un collegamento con la nostra regione alla fine sempre esatto abruzzo anche qui anche alla milano design week 2024 nel fuori salone perché il collettivo accademia di aracne che è nato a ortona nel 2019 si occupa proprio di fare questo tipo di azioni e sono circa 25 persone e che sono coordinate insomma guidate dall'artista shirley rowlands quindi salutiamo il l'accademia di aracne e che insomma ecco porta ortona e quindi l'abruzzo anche lì al salone del alla anzi no al salone del mobile non si dice più si dice milano design week 2004 ecco sì sì milano design week ormai quindi gli alberi della sono lì gli alberi com'è che si chiama si chiama il giardino è il giardino quello che sta di fronte all'università statale no sono lì sì sì sono lì è un giardino non sei andato a controllare oggi ieri era l'ultimo giorno andrò a controllare adesso andrò a controllare adesso si erano spogliati poi ci fai sapere i nostri telespettatori sono curiosi di sapere se l'uncinetto rimarrà lì vita natural durante dell'albero o verranno spogliati dopo questa azione di sensibile sensibilizzazione andrò a controllare e tra l'altro diciamo tra i vari luoghi in cui c'erano installazioni situazioni aperitivi performance eccetera c'è anche il base sì c'è il base milano è un hub diciamo il base milano è un hub culturale in zona di via tortona che era appunto la patria del fuori salone che poi si è espanso un po su tutta la città nei vari distretti ma lì il base che cerca di accentrare la culturalità e fare eventi fare presentazioni talk e tutto tra le altre cose anche delle rassegne musicali al suo interno c'era un'installazione della design week che ha accompagnato appunto una rassegna musicale tra cui c'era uno dei artisti della mia etichetta a tarde che si è esibito a questo molto interessante a tarde che tipo di musica fa simone che artista è è un cantautore indipendente quindi fa musica indie pop che l'indie è diventato il nuovo pop mainstream quindi vogliamo chiamarlo indie ma alla fine pop fa musica pop e si è esibito in acustico ne abbiamo parlato di questa cosa ne abbiamo parlato nelle scorse negli scorsi incontri di come la musica si stia evolvendo assolutamente per cui quello che un tempo era proprio considerato no un po di nicchia una musica indipendente di nicchia sia oggi in realtà proprio il la principale tipologia ascoltata dai ragazzi sì quello che era più underground più appunto come detto bene tu di nicchia adesso è diventato il mainstream quindi in cima alle classifiche ci sono tutti i generi che prima erano un po messi da parte un rinnovamento come giusto che sia nel campo dell'arte direi fondamentale e quindi se e quindi a tardi quanti anni a tardi che che generazione a tardi è nato nel 2001 quindi a 23 anni giovanissimo giovanissimo ma neanche troppo giusto quindi anche ha comunque avuto già un suo percorso è a un momento di maturità artistica sicuramente sì ha già due via le spalle sta facendo uscire dei nuovi singoli per creare il prossimo progetto eh per da portare anche live c'è un tour in cantiere che stiamo per per iniziare in vari festival in giro per l'Italia e piccolo spoilerino anche questa settimana per la settimana prossima uscirà un altro singolo che ha qualcosa a che fare che ha qualcosa a che fare anche con l'Abruzzo quindi tornando al discorso di prima l'Abruzzo c'entra un po sempre con tutto e allora ne dovremo parlare assolutamente la prossima settimana Simone se ne parlerà mi spieghi bene tutto quanto nel frattempo visto che il nostro tempo giunge ahimè a conclusione anche questa settimana sono molto contenta di averti avuto qui e sono molto contenta di averti lì perché ci dai tutte le notizie e le novità insomma ci fai respirare proprio l'aria della metropoli eh quindi grazie Simone ancora eh una volta per i tuoi contributi sempre interessantissimi grazie a voi grazie a voi è sempre un piacere allora nel lasciarci io ehm ti saluto nel frattempo lancio proprio il video che coglie le immagini della esibizione di a tarde al base di Milano e mh saluto tutti eh i telespettatori con cui mi vedrò comunque mercoledì eh insieme a Federico e dopo il video di a tarde torniamo in studio il video di a tarde torniamo in studio E se vai via e torna a casa, o sta in giro nella tua labbra Il sogno è la piazza in piascura, dormi e chiedi la calma tua Uno che parla e riparla, circone la tua stanza E se vai via e torna a casa, o sta in giro nella tua labbra Il sogno è la piazza in piascura, dormi e chiedi la calma tua Aprile la città Sto guidando sopra tutto, come flutto, sulle parei dell'inverno è freddo il giusto E oh, e oh, sto correndo sopra il rutto, come il giusto Sotto l'aria, si trasforma in tubo E oh, e oh, e oh, oh, yeah E il clima si attraversa sotto mia richiesta E il mio colore preferito mi pervane mentre La strada qui c'è anche di celeste E sulle bella torna a te colte di stiletta Non sai che cosa qui si direbbe Appena qui la mattina di me ha cito sempre Finito prima o poi si riprende Penso che non ci sei Ho gli occhi incociti da un po' E pensa a cosa fare Ma cercati bene, non so Ho un buco di testa come noi E pensa a cosa fare Soltanto a capire cosa ho Tutte scuse, non so che ci pensi Il mio colore è un colore allo stomaco Soltanto a capire cosa ho Oh, 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 oh Na, 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 na Oh, 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 oh Na, 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 na Tutti Oh, 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 oh Na, 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 na Oh, 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 oh Na, 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 na Oh, 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 oh Grazie a tutti